Napoli non molla, ancora in trincea gli operai della Whirlpool che continuano la loro battaglia. La multinazionale ha annunciato la chiusura dello stabilimento partenopeo per il 31 ottobre. Le parti sociali auspicano a breve un confronto ad incontrare una delegazione dei lavoratori nella prefettura partenopea, il ministro per il sud della coesione territoriale Giuseppe Provenzano, che ha confermato la posizione del governo. Un piano industriale senza Napoli non è un piano industriale ed è un piano industriale da rifare. Adesso siamo in attesa che l'azienda ce lo ripresenti, confidando che sia in grado di cogliere anche le novità che si sono determinate nel frattempo. C'è un mutamento nel mercato, ce lo dice la realtà anche di altre grandi imprese nel nostro paese. C'è una nuova stagione che si può aprire nel mezzogiorno attraverso le leve che abbiamo già messo in campo, a cominciare dalla fiscalità di vantaggio per il lavoro che compensa gli svantaggi localizzativi al sud, soprattutto il fatto che con questo nuovo corso del Recovery Fund avremo il sud in cima alle priorità della nostra azione. Ed è un sud produttivo, un sud che lavora quello che vogliamo, un sud in cui anche lo stabilimento di Whirlpool potrà ritrovare il suo futuro. Non è possibile che un insediamento produttivo con questa mano d'opera vada via da qua. Queste persone devono restare sul nostro territorio. Chiose il ministro degli esteri Luigi Di Maio da San Giorgio a Cremano, dove era presente una delegazione degli operai della Whirlpool. Vi ricorderete quando abbiamo stoppato i soldi a questi signori perché volevano chiudere a Napoli. Lo dobbiamo rifare se serve finché non imparano a concluso Di Maio. Grazie a tutti.